Estudante lamenta tariffa nebbe motorista microlete applica bai estudante Sira. Estudante Sira ha to lamenta tariffa nebbe Sai Makassi, che prejudica motorista microlete Sira, decide la halla operazione bai passagero Sira. Motorista microlete russi 01-2011 ha saia tariffa bai estudante Sira, cada ema ida o brigado tenkiselo centavus ruo nulo to ruo nulo res in Lima. Mas che antes ne applica tariffa nebbe governo decidi, estudante selo centavus sanulo res in Lima, noba cidadão bai bai, makasselo centavus ruo nulo res in Lima. Ho idane estudante Sira russi ba governo atuhalo intervenção, ho dinormaliza fali tariffa, transporte público nebbe condutor Sira aplica ba estudante Sira oras ne daudão. La difficulad Levo musici a scu. La scu che a scu. M facil si on put La mia famiglia è una scuola, ma la mia famiglia è una scuola. Diretore di scuola secundaria general 4 di settembre, Sergio da Cruz Ateteng, il Movimento Transporte Público Parado, prejudica la partecipazione di studenti sireni in il aula di trattare il processo di esame del primo trimestre. Il direttore explica il problema di studenti barac ma che l'abbia partecipare a esame. Il primo è importante che il primo trimestre e il piano è iniziata a esame del primo trimestre. Ora, la presenza è stata a vedere, con la scuola di scuola, la scuola di scuola di scuola di scuola, la scuola di scuola di scuola, e la scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. e dopo abbiamo fatto il micro l'olito in mania in mania i studenti sono di agirare in latula e nel fine sarà un'olio di un'olio di piazza in tardi a te verso Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.